Cari amici, followers, ieri qui nel carcere psichiatrico sa, giornata di tensioni in quanto venivano arrestati due suini della mala. Iosef, indetto Ushkrof a merda, è la sua complice la puttana di acitrezza. Plausibile quindi oggi aspettarsi aggressioni come quella di stamattina. Curiosità, gli alieni analfabeti chiamano questo posto la scuola. Ci vediamo nei prossimi videomessaggi.